che tante volte si dice da noi in cerco a Sant'Angelo ma pare nanteci, cioè mi somigli a un antece riferito a persona lenta o tarda quindi se eventualmente fai una foto con l'antece qualcuno ti può dire tranquillamente chi dei due è l'antece quindi sta cosa non suona bene vieni qua, vieni qua allora tu ci fai la foto e noi ci mettiamo là bravi, bravi anche perché di che di noi? è l'antece ma poi a Roma non lo diranno a me sta andando così